Collegamenti di storia dell'arte sul tema del tempo. Possiamo parlare della quarta dimensione nel cubismo e quindi il tempo impiegato dall'artista nel cogliere il soggetto da più punti di vista contemporaneamente sulla superficie bidimensionale. Ispirazione che a Pablo Picasso e Georges Braque viene dall'opera del post impressionista Paul Cézanne che appunto era impegnato a rappresentare molteplici punti di vista andando a solidificare, a rendere monumentale la fugace pennellata impressionista. Il tempo lo possiamo trovare nel futurismo e quindi tempo rappresentato nel suo con la velocità e il dinamismo che si ispirano alla cronofotografia. Tempo nel surrealismo e quindi la coesistenza attraverso la dimensione onirica del tempo oggettivo assoluto e del tempo soggettivo relativo. Poi il tempo sospeso della metafisica cioè oltre la realtà fisica e sensibile. Questi spazi evocativi e misteriosi che sono dominati dal silenzio e dal senso di attesa dove tutto è immobile. Il tempo è anche un ritmo musicale quindi il tempo che possiamo trovare nell'astrattismo nell'astrattismo di Kandinsky con un riferimento al Wagner e al metodo dodecafonico di Schumberg che è stato anche un grande pittore espressionista. E poi il cubismo orfico da Orfeo, questo mitico cantore che col suo canto ammansiva le bestie feroci. Quindi cubismo orfico di Robert e Sonia del Oné che tende alla spiritualità, all'astrazione attraverso un ritmo musicale.